ciao a tutte bentornate sul canale e benvenute in questo nuovo video oggi spacchettamento di campagna c9 di steno vi mostrerò con delle clip tutto quello che hanno acquistato le mie clienti sfogliando il catalogo un acquistino fatto da me e due omaggi che ha riservato per me l'azienda prima vi lascio a tutto quello che hanno acquistato i miei clienti e ci vediamo subito dopo per mostrarvi i miei prodotti partiamo con questa bellissima borsa che è la shop cruciani adatta per le giornate marine ma anche semplicemente per delle belle passeggiate estive questa è una shop creata da cruciani appositamente per steno si poteva acquistare a soli 8 euro e 90 acquistando alcuni set la mia cliente ha acquistato questo set che conteneva il try it questo è il pulitore concentrato super potente un litro sia per interno ed esterno della casa per pulizie approfondite poi c'è il famosissimo degreaser in formato da 750 ml questo è lo strazzatore concentrato multi superficie e stoviglie e infine il deo soft o il deo fresh in questo caso la mia cliente ha acquistato il deo fresh è un antitraspirante 48 ore anti alone dal profumo fresco questo set costava 19 euro e 90 e bisognava aggiungere 8 euro e 90 per acquistare anche la borsa shopper cruciani un altro set in offerta 2 al 50 per cento di sconto offerta esclusiva sugli stan wick sono da 250 ml l'uno e sono deodoranti per ambiente con lo stoppino io ad esempio ho la fragranza limoni del sole che utilizzo moltissimo per la mia cucina la mia cliente ha scelto altre due profumazioni la prima è freschezza oceano mentre la seconda è nuvola di fiori questi due prodotti costavano 11 euro e 90 il set vi è cattivo odore più a lungo assorbe anche l'odore più tenaci bc fritto fumo soppino regolabile in basso agli spazi degli ambienti della tua casa fino a tre mesi di durata prolungata efficacità lascia un piacevole profumo un altro set in super offerta con oltre il 30 per cento di sconto è questo per quanto riguarda i vetri il primo è il windows spray 400 ml ed è un pulitore vetri anti depositante vetri splendenti più a lungo pulisce in un lampo i vetri dallo sporco più difficile grazie all'azione combinata del panno in microfila e la miscela di solvente e tensiattivo insieme al prodotto c'è anche appunto il panno extra shine 40 per 40 la dimensione ed è un panno anti aloni vetri e superfici vetrate questo prodotto ha una formula speciale sbrevettata steno con oltre il 30 per di sconto questi due prodotti costavano solo 13 euro e 50 insieme un'altra offerta che non faceva parte del catalogo infatti vi consiglio di chiedere alle vostre presentatrici anche le offerte fuori catalogo è questa offerta sui dry spray 300 ml ed è uno spray secco disinfettante espresso ed è un presidio medico chirurgico ideali per tutte le superfici non lalabili senza risciacqua è perfetto per superfici morbide ma anche quelle elettroniche elimina fino al 99,9 per cento dei batteri e costavano l'uno 7 euro e 50 la mia cliente ha fatto super scorta ne ha presi tre un prodotto che non aveva una particolare offerta infatti costava 11 euro a prezzo pieno è la schiuma detergente intensiva per i forni ovvero oven e ha un quantitativo di 400 ml una mia cliente aveva bisogno di una crema antietà con un fattore di protezione per i raggi solari e ha scelto questa che è una crema dalla triplazione antirughe favorisce la sintesi della bananina e protegge la pelle dai raggi uvi questa crema antirughe spf 20 della linea dottor pierre ciao scusatemi sempre la pronuncia e della crema antirughe spf 20 con acido ialuronico e peptidi all'interno a 40 ml di prodotto lei l'ha pagato con oltre il 35 per cento di sconto solo 21 euro e 90 l'ultimo prodotto è marchiato flomar ed è una lucida labbra effetto ruggiata sono i dewi lip glaze 4,5 ml caduno la mia cliente ha scelto la colorazione 14 soft pink come vedete un bel rosato ha un effetto super glossy sono perfetti per l'estate con oltre il 15 per cento di l'ha pagato solo 6 euro e 50 e ora vi mostro i miei prodotti un solo acquistino e due omaggi il mio unico acquisto è questo di flomar come sapete flomar è la marca makeup presente nei cataloghi di steno e io ho acquistato il max glow che è un prodotto da 11 ml è una base coat che stimola la crescita delle unghie riporandolo da eventuali rotture adatto anche a unghie poco elastiche questo era in super offerta a soli 4 euro con oltre il 25 per cento di sconto come vedete è composto da un packaging secondario mentre il packaging primario ha la forma di tutti gli smalti flomar e il liquido all'interno come vedete un trasparente rosato ma sulle unghie rimane completamente trasparente sicuramente sarà la mia prossima base per quanto riguarda la manicure come omaggio invece mi è arrivato il moop duster questo è un rigeneratore di efficacia per accessori in tessuto è un 400 ml e era in offerta in catalogo c9 a soli 7 euro e 90 con il 30 per cento di sconto mentre in c10 non lo trovate con una particolare offerta ma lo trovate a prezzo pieno dice fino a nove giorni senza polvere un gesto ultra rapido per un risultato ottimale a lunga durata usalo per raddoppiare l'efficacia del tuo accessorio da spolvero con una fresca fragranza di note floreale e orientale quindi sicuramente adatto per essere utilizzato col dust clothes l'ultimo prodottino è un prodottino per quanto riguarda la skin care del marchio kiotis questo è il defi detox not a young anti pollution ed è per il viso e dice dal benessere nasce la bellezza olio detergente anti smog deterge perfettamente il viso ed elimina le particelle di smog presenti sulla pelle applica lo mattina e sera sulla pelle precedentemente inumidita massaggia delicatamente evitando il contorno dell'occhio e poi risciacqua in caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente e abbondantemente tollerabilità testata sotto controllo dermatologico contiene eucalitto questo è un prodotto da 200 ml con una scadente di sei mesi dall'apertura solitamente non uso oli detergenti per il viso ma non vedo l'ora di finire qualche mia scorta skin care per provare anche questo prodottino bene ragazze questo era tutto per quanto riguarda la campagna c9 di sternum fatemi sapere se anche voi avete provato qualche prodottino che vi ho mostrato come vi siete trovate e se mi consigliate qualche prodottino presente in catalogo sternum vi ricordo se non lo siete ancora di iscrivervi al canale e di azionare la campanella così da non perdere nessuno dei miei video e nell'info box trovate il link per il mio facebook e instagram mi raccomando vi aspetto anche lì vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video ciao